Oggi partiamo con un bellissimo progetto dedicato ai giovani, spazio The Young, spazio ai giovani. Questa amministrazione ha dimostrato più volte anche in questa occasione di credere in loro. Venerdì avremo una bellissima premiazione sui lavori che sono stati fatti durante la pandemia e poi alla sera tavole rotonde nel chiostro di San Giacomo presso la Biblioteca. Esprimo soddisfazione perché insieme al consigliere delegato Maltauro ancora una volta raggiungiamo i nostri giorni. Finalmente si riparte con l'aggregazione della socialità giovanile giorno 3 settembre all'interno del nuovo innovativo chiostro della Biblioteca Bertogliana. Dalle 18 alle 20 quattro tavole rotonde con 16 realtà giovanili e dalle 20 alle 22 un momento di socialità con DJ, buffet e un po' di socialità e aggregazione tra i giovani. 40 posti a disposizione, green pass obbligatorio, si riparte mettendo al centro le giovani generazioni.